Grande successo per l'iniziativa 6 di Sarzana Se, svoltasi domenica moltissimi presenti, Jacopo Cidale con le immagini di Sergio Diofi. Domenica 4 maggio si è svolta a Sarzana l'iniziativa 6 di Sarzana Se, quasi 3.000 le presenze. Assolutamente, i nostri concittadini hanno aderito in un modo inaspettato alla nostra manifestazione, presentandosi tra le 18 e mezzanotte in quasi 3.000. Ecco, un successo che ha avuto anche un fine benefico. Esattamente, i ricavati della vendita delle magliette e dei proventi andranno tutti in beneficenza. Per quanto riguarda la destinazione la stiamo ancora studiando, ma a breve vi faremo sapere a chi verranno destinati questi soldi. È stata inaugurata nell'occasione anche una mostra fotografica. Esattamente, una mostra fotografica che ha raccolto un sacco di consensi e molti cittadini hanno richiesto di acquistare le fotografie esposte. Proprio per questo stiamo pensando di proporre in un'asta benefica la vendita delle fotografie. Il ricavato andrà anche quello in beneficenza. Per quanto riguarda i modi e i tempi, vi faremo sapere tramite i giornali e tramite il nostro gruppo. L'Associazione Culturale ci tiene a ringraziare tutti i cittadini che hanno partecipato così numerosi, oltre alle autorità, perché se non era grazie a loro non avremmo potuto arrivare a un risultato così grande e importante, soprattutto a fare la beneficenza che ci siamo imposti di fare. Alla manifestazione era anche presente una persona d'eccezione, un simbolo di Sarzana. Sì, è stato un grande motivo d'orgoglio per noi avere la signorina Canale, che è appunto un personaggio storico, è una donna di 110 anni, famosissima, oltre ad essere la donna più longeva di Sarzana, è anche tra le più longevi d'Italia. Sono intervenuti per il taglio del nastro, assieme a lei, anche le autorità locali, il sindaco, la vice sindaco, che ci ha fatto appunto molto piacere che fossero presenti, oltre anche ad altri amministratori, che comunque hanno partecipato alla serata e poi ci hanno anche elogiato su Facebook, sui giornali. Insomma, c'è stato grande entusiasmo anche da parte loro, cosa che ci fa anche ben sperare per le prossime iniziative. Durante l'iniziativa sono state anche vendute delle maglie dedicate appunto al gruppo Sei di Sarzana Se. Esattamente, maglie che sono ancora in vendita tramite il sito del gruppo, durante anche i prossimi eventi che ci saranno, perché Sei di Sarzana Se, sete che vò ben, sete senna anima persa, sete senna terra adrea al fiumo, sete dura quanto un succhiale un boccan porco, sete se che amigo non amigo, chi nasù d'arpe del figo, e se tu sai che il mondo è come una cucumberla, tondo e pieno di semi. Grazie. Grazie.